Nella nostra parrocchia di Rastignano abbiamo avuto tanti bambini, divisi più che altro numericamente in due momenti. A giugno erano tanti ed erano circa 130 ragazzi e 30 animatori, mentre a luglio ovviamente il numero è un po' calato, però abbiamo sempre una cinquantina di bambini, questa settimana sono 52 e siamo 15 fra animatori e aiuto animatore. Siamo andati al parco dei Gessi, che è un parco naturale che abbiamo intorno alla nostra parrocchia, al nostro paese e poi abbiamo avuto due gemellaggi con la parrocchia di Pianoro, con cui appunto facciamo una estate ragazzi di zona pastorale e siamo andati una volta noi da loro giovedì scorso, mentre il giovedì prima sono venuti loro da noi, abbiamo passato la giornata insieme. Ci sono state alcune ditte del nostro territorio che con il coinvolgimento di agio ci hanno dato una mano a livello economico per portare avanti l'attività di estate ragazzi fino a fine luglio, insomma fino ad adesso, per cui per ringraziarle ci sembrava giusto andarle a trovare personalmente e portare i bambini. Ci siamo messi d'accordo con la dottoressa Samoggia e altri collaboratori e è venuta fuori questa gita al Museo del Patrimonio Industriale e quindi siamo venuti qui questa mattina. Qui al Museo hanno organizzato una caccia al tesoro per i bambini all'interno dei locali del Museo perché portarli proprio a vederlo con una gita didattica sala per sala sarebbe stato troppo impegnativo allora ci hanno proposto, noi abbiamo accettato volentieri questa caccia al tesoro che loro ci stanno organizzando la giornata di oggi. Grazie a tutti.